Sentiamo ancora un'altra analisi, che arriva altro amico di Emilio Libro, altro lettore particolare. E se tornasse Gesù? Questa è la domanda che si è posto, parla Enzo Fortunato, all'interno del suo libro e che in realtà si sono posti anche grandi scrittori e pensatori prima di lui, come lui stesso riporta nelle prime pagine. Verrebbe forse ridicolizzato per il suo messaggio, o magari considerato un idolo, come succede con i grandi attori o coloro che arlingano le folle, o magari verrebbe nuovamente perseguitato, perché il messaggio evangelico è in fondo un messaggio di libertà e anche di libertà di pensiero. Questo ci racconta parla Enzo Fortunato insieme a altre riflessioni che riguardano la fede, la fede come punto focale della propria vita e la fede soprattutto come incontro e non come mera speculazione filosofica. Gesù probabilmente porrebbe l'accento su quelle che sono le domande di senso della nostra vita, quelle che tutti noi possiamo farci, che siamo credenti o meno, ma che ovviamente attraverso la figura di Gesù prendono tutt'altra risposta. Il libro poi si conclude con delle lettere che Padre Enzo Fortunato ha ricevuto dai propri lettori e che lo hanno fatto riflettere probabilmente sul senso della sua vita e su quella di tutti noi.